Per adesso sono molto soddisfatto perché comunque insomma i dipinti sono ben disposti, si riescono a vedere anche con una certa calma, insomma sì, siamo contenti. C'è questo bronzo etrusco che insomma è un po' l'ospite d'onore di questa mostra, lei conosce la storia della Chimera? Vagamente, vagamente, sì, è il simbolo di Arezzo comunque. È il giorno degli studenti e dei turisti per la mostra Vasari, il teatro delle virtù, ospitata negli spazi della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Arezzo, Piazza San Francesco e la Chiesa di Sant'Ignazio. Sì, da ora in poi fino al 2 febbraio c'è la possibilità di vedere questa mostra che è di livello internazionale, allo stesso tempo ha le radici qui fortemente a Arezzo, non fosse altro perché appunto è dedicata a uno dei suoi figli Vasari, ma perché poi c'è questo ritorno della Chimera e tra l'altro mi sento di dire non è un semplice ritorno perché insieme agli allestitori, in particolare a Massimo Chimenti, abbiamo curato in maniera particolare le luci e con un video esplicativo molto importante. E poi quello che è stato ricordato più volte, il dialogo tra queste opere, tra questi documenti avviene qui e soltanto qui, quindi è davvero un'occasione unica per tutti gli amanti, non solo di Vasari ma della storia dell'arte in generale. Sì, guardi, io vedevo ieri un'intervista a Cristina Cidini che è stata la curatrice, che è di tante mostre, quindi voglio dire agli uffizi, in tutto il mondo, che ha detto che questa è una mostra irripetibile. Irripetibile perché mette in dialogo documenti e quadri e bronzi diversi, ma con una logica, non semplicemente per accatastrare e stupire. C'è appunto, già il titolo della mostra, il teatro delle virtù, spiega come Vasari fosse un fine intellettuale e usasse l'allegoria, come succede anche oggi, senza forse accorgersene, come dialogo politico. E quindi non un semplice cortigiano, ma un intellettuale vero e proprio, che tra l'altro con la sua opera dà dignità al lavoro dell'artista, forse per la prima volta. Vi abbiamo visto attenti alla storia della chimera, la conosceva? L'abbiamo letta in questi giorni guardando gli altri musei, sì. È bellissima, semplicemente bellissima. A noi piacciono queste cose, specie tardo-antiche, epoca classica o precedente. Per famiglie e gruppi è prevista una scontistica e una sorta di biglietto unico. Sì, diciamo che ci sono biglietti, fra virgolette, a pacchetto, in cui sostanzialmente si dà l'opportunità di visitare, oltre a questa mostra, anche i nostri musei. A un prezzo ridotto, chiaramente, concordato con la Fondazione Guido, con la quale la Rezzentour collabora per questa mostra. E' un buon motivo, un motivo in più per venire a Rezzo in questo periodo, perché oltre alla mostra del Vasare c'è la possibilità, ripeto, di visitare tutte le opere presenti nei nostri musei, che stanno andando anche molto bene, peraltro, con un costo contenuto, anche per non incidere in maniera particolare, soprattutto sui nuclei familiari, sulle famiglie. Vedete che ci sono dei ridotti, ci sono dei pacchetti, più tagli di pacchette, quindi, come dire, tagliato su misura il biglietto, vorrei dire unico, ma non è unico.